La Valtellina tra le protagoniste alla fiera del cicloturismo a Bologna. L'evento ha visto la partecipazione di 19.000 visitatori, molti attratti anche dallo stand di Valtellina Turismo dove hanno potuto scoprire l'offerta cicloturistica del territorio, raccogliere materiale informativo, in primis il nuovo Valtellina Bike Magazine che illustra proposte di itinerari, il calendario degli eventi e in generale il racconto dell'offerta bike della destinazione arricchito con approfondimenti legati al cibo e al territorio. Grande interesse da parte del pubblico soprattutto per il Sentiro Valtellina e la ciclabile Val Chiavenna, i due più importanti itinerari di cicloturismo della provincia di Sondrio e forte apprezzamento per Enjoy Stelvio Valtellina, ovvero il calendario di chiusura al traffico dei principali passi alpini che rappresenta un elemento di grande richiamo per gli amanti del ciclismo. Siamo a Bologna alla fiera del cicloturismo, veramente soddisfatti di aver partecipato a questa fiera che nelle precedenti edizioni era a Milano, ma veramente tanta gente. La Valtellina è presente anche qui con cicloturismo, molto interesse e credo che l'estate prossima, quella del 2023 sarà l'anno dei record.